bella raga e benvenuti in questo nuovo video continuiamo la serie dei posti abbandonati oggi siamo a balestrino un paese abbandonato in provincia di savona adesso andremo a vedere com'è sempre con me sj biker e mio fratello che si è unito a noi ragazzi questo posto abbandonato da un sacco di tempo ragazzi questa era una chiesa saluta cosa devono fare innanzitutto prima di tutto iscriversi al canale mettere mi piace un po di voglia per non fare come federica ma va che animale c'è qua dentro che fa questo brutto ok ragazzi siamo riusciti ad entrare in una casa nel paese abbandonato balestrino ragazzi guardate questo era un appartamento di qualcuno una volta ragazzi è un appartamento di tutto questo brutto ragazzi era una foto nel fornare ragazzi è spettacolo spettacolo questo questo bella ma bella c'è un pavimento lì una volta qua c'è anche Simo dove eravamo prima ah si è il passaggio di sotto qua si va dove? niente qua c'erano entrate ovunque quello che rimane di una casa che è crollata giù c'erano entrate nelle case ovunque c'entravi ovunque è un paese di chissà quanti anni fa poi questi vecchi dai sotto ma io... puoi finire sopra? dai finiamo sopra guarda non sarà fattibile la questione guarda un letto questo qua quel che rimane di un letto di una volta qua c'è una piccola cosa c'è qua? non c'è un letto di molle oh carino lì c'era un'altra casa col camino guarda qui guarda qui guarda qui ci sono ancora le molle guardate che vista però si continua fino da me tra l'altro è dato per pericolante sto posto per un motivo quindi ragazzi iscrivetevi ai nostri canali assolutamente ora ci uccidiamo perché qua tutto si si ma ce l'abbiamo però un po ok ragazzi abbiamo trovato una bombola e una vecchia cucina aspetta ragazzi ho un letto si guardate ragazzi un letto c'è ancora dello scottex guardate qua ragazzi qua c'è ancora un cucina guarda che c'è lo scottex sotto a letto il bagno questa era ragazzi guardate una vecchia doccia una ciabatta ma scoperte guardate si questa è la stufa come era di là? ero giusto la sala di poi andiamo insieme si questa era la stufa della sede si f***a ragazzi c'è anche più di sotto si si ok si scivola ragazzi simo vieni a vedere qua occhio perché sono già andato per terra io sono mezzo morto quella è aperta questa? si quella lì è venuta giù occhio si occhio guarda qua guarda guarda ma dai cos'era? che cos'era? cos'era sta roba qua? ha delle gabbie questo sei boh raga guardate occhio i chiodi una scarpa il bottiglia è quella? simo vieni a vedere qua e non è di scappare l'immobile? si qua ci sono delle gomme un pezzo di un water sono ancora un sacco ci sono delle gomme di 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 le staturette di una volta la pazza si stai all'occhio che ci sono delle tavole coi chiodi sai cos'erano queste qua delle gabbie si stai all'occhio perché sono già andato per terra questa qua io sono andato a lungo in terra quindi permesso? si grazie ma al contrario le scale stavolta non le faccio io per prima no meglio che le faccio io sono andato lungo una volta io mi rimasto o poi subito dove vuoi? prima facciamo subito mi sembrava un po' più resistente rispetto alle altre sei sicuro? credo oh si sembrerebbe ma si dallo stato mi sembrava che abbiamo messo bene ok io ci sono ci sono tre piani qua ma qua non c'è niente ecco qua qualcuno si è venuto a disegnare comunque guarda che vista ho però simo ok qui non oso andare oltre guardate che posto fantastico eh oi com'è? c'è tutto qui basta dice quanto soffitto c'è un cacchio no cazzo tutto qui qua 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 ci hanno fatto un molto camminato c'è un contro soffitto non c'è niente c'è c'è un cazzo questo cosa era un caminetto forse si guarda che caminetto la stavagalla cioè non l'hai vista ok terzo piano visto secondo piano visto vedai era partita male oggi era un gigante questa casetta c'è che comprava questi posti c'è una regia sei pronto all'avventura il cammino sono finiti stira qua dentro ecco un lato mezzo palazzo cosa c'è? ci sono dei mobili mi sembra di vedere da qua non mi sono arrabattato come una bestia male no non ci facciamo passare no è possibile guarda un po' di ragiontina no 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 non ci vado sono già andato per terra oggi assolutamente no oggi basta e avanza ok ragazzi direi che ci stiamo svegliando la porta il rischio è arrivato bellissimo non ci siamo usciti di qua c'è un pezzo di divano oh Simo questo è inquietante ci sono ancora i fornelli una seggio qua davanti c'è la marmita la marmita? c'è una 500 metri figurati ah sì c'è anche una scarpa è una merda di qualcosa dobbiamo entrare qua guardate ragazzi una marmita guardate guardate c'è c'è scarpe si i pacchetti di sigarette all'avventura è possibile non ci credo è scaricata la batteria ma figurali e meno male che ho portato anche la tratta di casa bisogna riuscire ad arrivare là non c'è le batterie intercambiabili c'è il letto simo raga mi hanno trovato un altro letto guardate ragazzi non so cosa sia questo è super inquietante ragazzi facciamo anche una foto col telefono aspetta un attimo ragazzi ok una foto veloce e qui guardate qua siamo arrivati da qua sotto non ci sono scese giù ci sei andato giù sui motè vaga piano di sotto oh guardate ragazzi oh che scarpetta inquietante guardate che scarpetta inquietante ragazzi oh mamma mia guardate qui quante cose guardate ci sono delle molle di auto vieni giù vieni giù giù qua ci sono dei tappetini della 500 ci sono i tappetini della macchina guardate guardate ragazzi c'è una macchina a pezzi c'è una macchina a pezzi guarda pezzi di una macchina cosa ci fanno qua la bici ma dai ci sono le molle ma dai c'è di tutto ma non ci credo cosa ci fanno qua sono qualche mezzo vecchio perché i tappetini stanno in quell'epoca marelli no è una fiat magneti marelli la batteria magneti marelli ragazzi qua ci sono tutti le parti ma pensa a te di un'auto hai visto la marmitta su di sopra un copertone facendo una più ora prendendo la tocca così per quanto mi piacciono i motori azzeccare alla prima che cos'è ecco qua ragazzi la marmitta dipende se non ci vengono ci sono guarda qua eh guarda da quanto è giù sì sì potrebbe essere dal 500 al 126 quella roba lì quella roba che usava comunque a quell'epoca lì che averci al lavoro sarà tanta roba ragazzi parkour ci fanno un altro letto ragazzi guardate ragazzi che vista che c'è qua eccolo lì il castello che posto è che mettiamo così qui sì ballo comunque guardate raga e qua ragazzi c'era la tabaccheria guardate comunque il disegno che c'era sui palazzi come erano ben definiti ok ragazzi ok ragazzi dopo aver scalato la montagna stiamo cercando di andare al castello e ci siamo quasi eccoci qua torcia ecco qua guardate ragazzi questa era una stalla questa forse era una stalla mi sa questa era una stalla forse non so se quante cose è una stalla un po' si può essere c'è una merda qua ok ok si è da serpenti è da serpenti guarda guarda quella era un gabby si quindi potrebbe essere una sorta di stalla guarda no che figata raga che cos'era sto posto ci sono delle porte non so se si capisce bene dalla camera però ci arriva? forse madonna occhio siamo temerari ma la vedo grigia ti dico la verità stavolta non porteremo a termine l'obiettivo mi sa no non ci arriviamo la vedo grigia ti dico la verità occhio guarda spettacolo spettacolo qua c'è una scala Simo si 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 no è aperta no ecco non so se si ci possa dove eravamo giù prima però qua sta venendo giù il soffitto venissiamo all'occhio stai attento queste erano case un altro letto e mobili guardate ragazzi un'altra volta forno immergiti nella natura la natura si può darsi non ti prego io partisco la roba lì però c'è un cancello a parte ma c'è un cancello di prima chiuso non c'è un cancello di prima non c'è un cancello di prima ma dire che è finito qui questo qua è il castello non sappiamo se è abitato o no a noi ci sembra più disabitato vabbè ragazzi io direi che il mio video termina il video termina a few moments later direi che può finire direi che il video termina qua ragazzi dopo essermi punto in piede finiamo qua il video e ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao ciao